Benvenuti nel mondo di Hermès. Hermès è un marchio di lusso francese che ha una lunga tradizione di artigianalità e attenzione ai dettagli. Fondata nel 1837 da Thierry Hermès, l'azienda ha guadagnato una reputazione per la sua vasta gamma di prodotti di alta qualità, tra cui borse, abbigliamento, accessori e orologi. Gli orologi Hermès sono prodotti in Svizzera e sono noti per il loro design elegante e raffinato. Il marchio offre una vasta gamma di stili e modelli, tra cui orologi da uomo e da donna, e orologi con funzioni aggiuntive come la data, le fasi lunari, il cronografo e il GMT. Ogni orologio Hermès è prodotto utilizzando solo i materiali più pregiati, come l'acciaio inossidabile, l'oro, il platino e i diamanti, al fine di garantire la massima qualità e durata. Hermès ha collaborato con il celebre designer Philippe Mouquet per creare molti dei modelli iconici degli orologi Hermès. Tra questi si annoverano il Cape Cod, il Kelly, l'Arceau e la Cower. Grazie alla collaborazione di Mouquet, gli orologi Hermès sono diventati sinonimo di stile e raffinatezza, e rappresentano un'ottima scelta per chi cerca un orologio di lusso unico e di alta qualità. Hermès è stato anche molte volte nominato al Grand Prix d'Orlogerie de Genève, e vinse ben due premi nel 2022 con l'orologio, Arceau Le Tomps Voyager. Questo segnatempo vinse i premi per la miglior complicazione in un orologio da uomo e da donna. L'Arceau presenta l'esclusivo meccanismo, Travelling Time, sviluppato esclusivamente da Hermès. Questo meccanismo permette di visualizzare 24 fusi orari tramite un disco circolare, dove sono segnate le città del mondo, e un contatore mobile, che ne rivela l'ora in corrispondenza della città. Inoltre, Hermès è uno dei pochi marchi di orologi al mondo che produce anche i propri movimenti interni, il che garantisce la massima precisione e affidabilità degli orologi. Questo dimostra l'impegno di Hermès per la qualità e la cura dei dettagli, e lo distingue da molti altri marchi di orologi di lusso. Gli orologi Hermès sono disponibili in molte varianti di stili, materiali e funzioni, per soddisfare i gusti e le esigenze di ogni cliente. Se siete alla ricerca di un orologio di lusso e di alta qualità, gli orologi Hermès sono sicuramente da considerare.